Nel 2024 compierà 20 anni di presenza qui a Pesaro il reparto di neurochirurgia, un reparto di eccellenza assoluta che si avvicina a questo anniversario tagliando un traguardo importante in questo 2023, un traguardo quantitativo ma anche qualitativo, quello dei mille interventi neurochirurgici realizzati già nei primi 11 mesi dell'anno raggiunti a fine novembre, 3.000 interventi, l'80% dei quali programmati, il 20% circa urgenti, che fanno di questo reparto un punto di riferimento a livello non solo regionale ma anche di eccellenza nazionale, nonché meritevole di riconoscimenti anche a livello internazionale. Ci sono dati oggettivi a testimoniare la funzionalità del reparto diretto dal primario Letterio Morabito, quelli di un 57% di pazienti presi in carica per quello che riguarda la provincia di Pesaro Rubino, ma anche un 37% delle altre province marchigiane, nonché un 6-8% di mobilità attiva di pazienti presi in carico dalle altre regioni. Il traguardo dei mille interventi è un grosso traguardo perché dovete immaginare il lavoro che c'è dietro di controllo dei pazienti, di visita, del reclutamento dei pazienti che devono essere operati e in questo devo ringraziare i miei collaboratori sia medici che infermieri perché è un'organizzazione di tutti i percorsi che prevedono la gestione dei pazienti, la selezione e l'utilizzo della sala operatoria che è il vero collo di bottiglia dove i riparti chirurgici si fermano. Il traguardo dei mille interventi è un traguardo quantitativo importante perché noi ci rivolgiamo a tutta la regione Marche, quindi non sono solo pazienti della provincia di Pesero ma il 35% è del resto delle Marche e il 7% è pazienti di fuori regione, quindi è un'attrattività importante. D'altra parte Newsweek ci ha riconosciuto nella classifica che negli ultimi 4 anni ha fatto dei 150 migliori centri al mondo, noi siamo in seconda posizione in Italia e comunque dentro questa classifica dei 150 migliori centri di neurochirurgia del mondo. È un'eccellenza vera, mille interventi di cui molti per tumore al cervello rappresenta classicamente la sanità di eccellenza di una regione e di un paese, poi ci sono anche altre lacune, ci sono dei problemi, ma naturalmente il dottor Morabito ha uno staff che riesce a garantire un numero così alto di prestazioni pur con le difficoltà che il paese attraversa per la carenza di medici, tetto di spese, eccetera.